Appare anche vicino al cancello del liceo scientifico Alessandro Volto uno striscione con lo slogan Il tabacco è una minaccia per il nostro ambiente. Un'iniziativa a sostegno della lotta al tabaggismo che viene promossa dalla neostituita consulta giovanile della Lilt della provincia di Caltanissetta al fianco della sezione nissena dell'associazione. La Lega Italiana per la lotta contro i tumori infatti, che da sempre si occupa di prevenzione, ha avviato una campagna di sensibilizzazione in corrispondenza del 31 maggio, in occasione della giornata mondiale senza tabacco. La scuola da anni che lavora su questo tema è per quanto riguarda la lotta al tabaggismo nella scuola in modo particolare e quindi sembrava da parte nostra doveroso dirgli a questa iniziativa visto che collaboriamo con la Lilt ormai da diversi anni, sono almeno 3-4 anni che lavoreremo con loro stessi. Quindi da questo visto ringrazio le nostre insegnanti, la professoressa Verna, Nicosia che sono le referente interne per questo progetto. Poi c'è un altro aspetto molto importante, in questa volta nel lavoro che abbiamo svolto il tuo amico e il responsabile della Lilt e quello del territoriale, c'è questo protagonismo dei ragazzi che per noi ci è mai particolarmente significativo. Quindi questa volta, oltre al lavoro che abbiamo svolto in aula con le nostre insegnanti e con la Lilt, sembrava doveroso dare questo spazio ai ragazzi stessi, che sono espressi liberamente e hanno prodotto per un'iniziativa questo bellissimo striscione che riassume l'impegno della scuola in tal senso. Quindi c'è un doppio elemento, prima il lavoro svolto nel tempo con gli insegnanti e poi il lavoro che abbiamo svolto quest'anno con i contributi dei nostri studenti. L'obiettivo della consulta è quello di rendere i giovani più consapevoli e partecipi nell'elaborazione di progetti, incontri, iniziative sul tema della prevenzione oncologica e per la diffusione di corretti stili di vita. La consulta è sempre aperta al coinvolgimento di nuovi giovani appartenenti agli istituti della provincia, essendo composta dagli studenti di alcune scuole del territorio, tra queste anche il Galileo Galilei. Anche nell'Istituto Professionale Nisseno, da sempre sensibile all'iniziativa della Lilt, è presente infatti uno striscione già da qualche anno dedicato alla giornata contro il tabacco. Sostenere i percorsi di educazione alla salute, che oggi possiamo definire di promozione della salute, si rappresenta uno degli obiettivi strategici per le scuole di ogni ordine e grado. Sensibilizzare i nostri ragazzi, creare loro, stimolare la formazione e la cultura della prevenzione, significa attivare dei percorsi virtuosi, dei comportamenti e corretti stili di vita, che hanno poi delle ricadute importantissime, non soltanto nel gruppo dei pari, praticamente, che i ragazzi frequentano al di fuori della scuola, ma anche all'interno delle realtà familiari e parentali, insomma, in senso molto più ampio ed esteso. Quindi ci rendiamo conto che intervenire in termini educativi in un contesto scolastico, significa potersi garantire il massimo dei risultati, diciamo, nell'ambito della prevenzione in generale, in maniera particolare quando si parla di prevenzione delle malattie tumorali collegate all'uso e al consumo del tabacco.